Un calo, quello registrato nel turismo, che ha messo in difficoltà le aziende ricettive di fascia medio-alta, che sono arrivate a registrare anche un calo del 20%, con valori mensili di meno 4 e meno 5%. Questi dati emersi dalle recenti analisi sui flussi. Di rientro della fiera di Rimini, quali sono i dati che Federalberghi ha rilevato in metodo al turismo in avanti alla stagione estiva 2023 in Puglia? Abbiamo rilevato una stagione molto, molto bassa di presenza e molto bassa anche dei numeri sperati all'inizio stagione. Settembre-ottobre, una leggera ripresa all'interno della città, all'interno dell'entroterra, delle varie marine, però non riescono a colmare ovviamente i problemi che ci sono stati durante questa stagione 2023. È previsto però ed è in corso un turismo internazionale. Con questi dati si può andare poi a recuperare quanto si è perso? Io credo che sarà difficile recuperare quanto si è perso. Bisogna lavorare sicuramente per gli anni a venire. Nel 2024-2025 già si sta lavorando. Ci sono tante cose da rivedere e da sistemare. Perché il Paese offre molto, il Salento offre molto e la Puglia offre tantissimo. Quindi sono dati da valutare e anche tavoli di lavoro poi da intraprendere sicuramente. Ci sarà tanto lavoro di squadra da fare. Come ente di categoria, qual è la priorità assoluta che sente di attenzionare a quelli che poi saranno gli organi non competenti? Argomento trasporti. È un argomento detto-ridetto, ma su questa cosa non bisogna mai stendere un velo pietoso né tantomeno chiudere le tende a questo argomento. No, va avanti. È un argomento tanto, tanto importante per i trasporti da brindisi all'interno delle marine, brindisi all'interno della città. Quindi è un argomento che ancora è tanto problematico. Bisogna sicuramente porre l'attenzione di tutti quanti noi.